Buongiorno ragazzi, oggi vi mostro una serie di slide che riportano il lavoro che abbiamo realizzato insieme. Ci sono gli articoli che avete selezionato e poi troverete nelle slide che riportano appunto i casi di bullismo e cyberbullismo più eclatanti, capitati in Italia, i casi di cronaca, alcuni dati che abbiamo cercato insieme e poi troverete nella slide 7, in particolare nella slide 8 e 9, le principali forme di cyberbullismo che come vedete hanno una definizione in inglese. Quello che vi chiedo è di cercare delle immagini sul web relative a queste particolari forme di cyberbullismo, quindi delle immagini che riguardino il flaming, l'arrassment, il cyberstalking, l'impersonation, trovate poi ovviamente anche la descrizione in italiano. Cercate queste immagini e salvatele sul desktop del vostro computer. Grazie.